E' bella a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo video Come vi ho detto nello scorso video, oggi proveremo una reazione al gameplay di questa nuovissima season Quindi ragazzi, ovvero, quindi oggi, ben ritornati a casa Ora ci catapultiamo in questo matchmaking e ci vediamo una volta arrivati in game Grazie, inoltre un mio amico mi ha detto che queste partite durano più del solito Perché c'è un miscuglio tra Nabi e OG Prevalentemente OG perché visto che è la loro season, si può dire Ritornano alla loro casa, possiamo dire Questa season durerà un mese e quindi questo mese se lo godranno Quindi raccogliamo un po' di armi anche se siamo allo spawn Però non stiamo aggressivi come gli altri Facciamo qualche emote Questa qua si è bluda Con pistole e fucili di alta precisione Dove ce ne andiamo, dove ce ne andiamo, dove ce ne andiamo, andiamocene a... Andiamocene a... Andiamocene a... Andiamocene a... Andiamocene a... Non me lo ricordo questo... Ma dai, ma ragazzi ci troviamo qui, corso commercio tattico Ma no, corso commercio E' l'unico Corso commercio è stato pure la pizzeria dove è stato... Dove è stato registrato il primo trailer di Fortnite Dove c'era quella che li faceva ballare Qua costeggiamo, vediamo se c'è qualche rumorino qui Però mi sa che c'è qualche rumorino Eh no Eh no, eccola qua, invece No way, no way Abbiamo parlato prima Ho parlato dei bug E di solito Con quella la non ci doveva morire Chiamo il mio informatore Vediamo se risponde E bussa bussa Tantino chiamiamo il mio informatore Ragazzi Dovrebbe rispondere Nonna dorme L'informatore mio dorme Cioè mo si starà sfiammando Talmente tanto che dorme Cioè non è che è tardi È l'una Aspetta Brother sei in un video Ma con quelle bounce lì Non mi ricordo mai il nome Che ti fanno saltà Ma mica si dovrebbe prendere danno da caduta Perché io me la sono sparato sotto i piedi Ho preso danno da caduta Ok vediamo che rispondere il brother Il mio informatore Madonna Hanno messo il caro Cioè hanno messo Non come prima che tu 20 20 20 20 20 Moli accumula 20 40 60 80 Hanno fatto una grande piccola cosa Ora però non ci schiattiamo Gentilmente Ma gentilmente Non ci vorremmo di più D'ora il mio Brodero E off E off Dopo una giornata così Tanto lunghe off Lui Lui si permette di Eh si Zubabou Ciao Chi è che viene qui Nessuno fa la mia pensata Meno male Anche perché non ci voglio schiattare all'inizio Secondo me Stamattite se ne va Easy Easy full Mo viene uno Boom Ciao Quindi Stamattite Stamattite Abbiamo il mitraglietto Ricciolo Il mio Brodero Non risponde Semmai Andiamo a controllare Una volta Finito il game Ci dobbiamo Costeggiare Corso commercio Secondo me Perché se no ci fanno male Ha una casetta Ok La fattura è rivolta Sennò qui Lasci il dino Mi dai DG per te Mi rubo una casetta Allora Quindi ce ne andiamo Corso commercio Io non sto facendo niente Il P90 Se non sbaglio si chiama OP60 O P90 Eccolo No Gli ho spammato Il caricatore Addosso Lo so che Gli ho spammato Però E andava Ciao Allora Il mio brodero Non ha letto Ricarichiamo Questa qui Ecco qui Pompa pure E andiamo Let's go Eppure la radio qui Madonna L'hanno rovinato I sigo card Ah ma noi così Ci siamo dominato tutto Ci siamo dominati Tutti il corso commercio Ma non ci credo Manco se Manco se me lo firmano Manco se mi danno Un contratto Dicono Ehi Vedite Sei dominato tutto È stato easy No È È Se andava easy Non altre che quelle macchine 4x4 che dicevano 27x27 1200x1200 questa è una best car no il brodero non risponde fuga tiene lanciarazzi questo ma è in grippo salve salvini ciao a tutti io mi andrei a mettere qui fossi in voi salve bello bellino e chi si muove più qui si muove qui si muove qui si muove qui si muove non so che sto andando fuori qui ma devo fare una cavoletta così è una cavolata lo so fa meglio per me è più performante si prendo qua ce ne andiamo qui al rifugio ritirato e vedo costruzioni vedo build portatile 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 Prima sta un po' camperante ci può dire Fucile a grosso calibro, il cosiddetto fucile pesante Sollevi go, lemme go Ecco il suo commercio lo avevo conquistato si può dire Se lo stanno contendendo, ho visto qualcheruno E gli piacere sarebbe Eccolo lì Solo che non ha capito niente, questo corso commercio è mio Eh ti piacere sare 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 sarebbe Ed ho già visto, visto, visto Eh mi sa, mi sa, mi sa, mi sa Mi sa, mi sa, mi sa, mi sa Mi sa Mi sa che è morto E moccio Io mi faccio il suo quadrato Mi sa che è moccio Ma no, questo qua non lo sprechiamo ora Lo utilizziamo solo in caso di gravi succedanze Stiamo inventando un po' di vocaboli Eh però secondo me L'airdrop Vraiment L'airdrop Eh fai Però io non ci vado Ci andrà qualche Vero Very, 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 very Scarso Sì Sì quelli là sono i noob Che si mettono a fare le trappole con l'airdrop Ma non lo sanno che io ci sono nato Questo Questo trappole Eh infatti Già sparano Voi fate lì Voi Condendetevi la zona Io mi faccio qua Madonna mia Eeeh Olle Ah zun peppino Ah zun peppino marino Zubaboe Oh nai barobas Eccolo Si è sporgiuto Si è sporgiuto Zuzututu Mi metto con l'encherazzo in mano Se no Faccio male soltanto io Zubaboe Zubaboe E questo Sono andato easy Easy clap Quest'altro Ci dobbiamo i colpi Soltanto Eh però ci piacessere Essere Esserebbe Gli ho fatto bene a venire qua Tanto Le nostre 5 kg Ce le portiamo a casa Secondo me Manca un minuto e 27 Eeeh Si Zubaboe E' questo qua Mi sa che me lo faccio io No 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 Questo qua mi sa che mo Non se lo fa nessuno Anzi no Eh no 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 E tu mi sa che non hai capito Ti ho perforato Aja No no nooo 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 Eh vabbè ragazzi GG GG per lui GG per lui ragazzi Torniamo alla lobby Torniamo alla lobby Torniamo alla lobby GG Un grande GG di per lui spam di gg in chat per questo qui per questo qui non sarei giocata sulla difensiva non mi sarebbe dispiaciuto avere vincere quella partita però era impossibile era impossibile vincerci allora ragazzi eccoci qui andiamo a riscattare le nostre ricompense nel passi qui vediamo questa qui il riscatto riscatta riscatta sei messo a dormire ecco qua pensavo che internet se n'era andato vabbè non c'è rimasto più niente ragazzi quindi da karate dice tutto per ora questa è la season quindi per ora è tutto da karate 10 out